Siamo arrivati! Siamo arrivati! Siete pronte? Andiamo da Betti! Ho filmato un po'! Come è Betti? Ho filmato un po'! Dai, Bergoglio! Vergognoso! Io avrei detto... Cristina, Bassano del Grappa! Evviva i Vigili! Guardami me e viene avanti verso di me! Sta arrivando un po' di bretta! Sì, certo! Vieni, amore! Guarda la telecamera che si chiuda bene! Grazie! Grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.